Svolta storica nell'ambito delle regole del lavoro in un settore strategico come quello della gestione integrata rifiuti in Abruzzo, con l'accordo per l'applicazione di un contratto unico nelle gare per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Fenomeni di dumping contrattuale diffusi nel settore delle gare per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei comuni abruzzesi. Era necessario dare uno stop e l'idea è partita qualche anno fa dal Lanci che ha subito passato la palla ai sindacati, all'Agira, autorità regionale di gestione integrata rifiuti urbani e quindi alla regione Abruzzo per giungere ai giorni nostri a un verbale di accordo unico nel suo genere in Italia, ovvero l'applicazione nelle migliori condizioni contrattuali, praticamente il contratto collettivo nazionale per tutti i lavoratori nell'ambito delle gare per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Un accordo accolto con entusiasmo principalmente dalle sigle sindacali, tutte presenti stamani in regione per la presentazione ufficiale dalla CISL con il segretario Amelio Angelucci, la UIL con Primo Cipriani e la CGL con Ezio Coletti. Le maggiori tutele per i lavoratori e anche un'efficienza maggiore per quanto riguarda il servizio? Sì, proprio così la garanzia di un servizio di qualità che si coniughi con la tutela appunto dei lavoratori, soprattutto in un momento in cui stiamo avviando un percorso di gestione pubblica, penso in particolare a Teramo con la Teramo Ambiente che è stata trasformata in house, anche la trasformazione delle società in house che quindi prevedono una garanzia dei contratti e dei rapporti anche a prescindere ovviamente della natura delle società che gestiscono i rifiuti. Abbiamo cercato di mettere ordine nel settore, l'Abruzzo è stato molto avanti nell'immaginare Agir ma molto indietro nella sua applicazione e quindi abbiamo dovuto rincorrere un po' e oggi finalmente arriviamo a questo accordo che cerca di eliminare qualsiasi ipotesi di dumping contrattuale che pure si verifica in questo settore, di dare dignità ai lavoratori e di dare organicità ad un servizio che ha necessità di regole certe.